ben ritrovati di nuovo nella mia home gym oggi vi vado a mostrare un altro prodotto che ho acquistato appunto per l'home gym e si tratta di questa fascia per caviglie ad attaccare al cavo basso del rack così che si può diciamo allenare allenare i muscoli della gamba vi vado a mostrare il prodotto da vicino e vi dico che l'ho acquistata 0,50 centesimi di euro l'ho acquistato su aliexpress ci vuole un pochino ovviamente per arrivare all'incirca un mese però ne vale la pena anche perché a livello dei materiali sono rimasto stupito pensavo fosse qualcosa di leggero come vedete è bella spessa questo qua neoprene c'è questa fascia di velcro l'anello che poi va appunto ad attaccarsi al moschettore del cavo basso del rack questa fascia in velcro anche questa che va attaccarsi qua e una volta appunto legata alla caviglia potete andare ad allenarvi allora vi vado a mostrare il funzionamento fate conto che qua mettete la vostra caviglia fate passare la fascia dentro l'anello è una volta passata dovete agganciarla in questo modo come vedete una volta agganciata avete l'anello pronto per essere attaccato in corrispondenza del moschettone nel cavo basso del rack eccoci qua e quindi voi potete andare a effettuare gli esercizi e come vedete va alla resistente link del prodotto in descrizione se avete domande non esitate a pormele ci vediamo nel prossimo video